La gioia del vagare senza meta, piccolo eserciziario della flanerie, nasce come una meditazione sull'atto del camminare. La città e quindi della flanerie, quell'andare sbagato, diciamo, senza tipicamente novecentesco, ma a questo punto ha avuto appunto anche delle sue code, insomma, anche contemporanee. È chiaro che parliamo di un'attitudine più che di un gesto fisico, una curiosità, una voglia di guardare il mondo e anche di guardarlo con occhi diversi, cioè non facendoci soltanto guidare dai passi, ma appunto da quello che vediamo. Ho cercato in questo senso di concentrarmi su ricordi e appunto anche visioni che hanno accompagnato i miei passi dall'inizio, diciamo, della mia carriera di camminatore solitario, perché appunto, come metto in risalto nel libro, la flanerie nasce soprattutto come un atto solitario, insomma, senza nulla togliere a delle bellissime passeggiate che possono essere fatte con altre persone o alla passeggiata romantica, per esempio, che ha ovviamente un suo valore, ma ovviamente la flanerie è qualcosa di diverso. Ovviamente si tratta di guardare per terra, insomma, ma anche rivolgere lo sguardo in alto, per esempio guardare i palazzi, guardare le finestre chiuse, cercare di capire cosa si nasconde dietro quelle finestre chiuse. Sicuramente c'è una gioia nell'andare, ma in un modo particolare di andare con quello appunto svagato, senza uno scopo, senza una precisa meta da raggiungere, ma appunto con l'incantamento di chi cammina e di chi appunto cerca di perdersi nelle vie della città e questo è il tipo di incantamento che fa sì che la camminata non sia un semplice esercizio fisico, ma sia appunto un esercizio spirituale. Ma la gioia di vagare senza meta è anche un modo per parlare di letteratura, cioè di grande letteratura, della letteratura che ha al centro il viaggio, il camminare, soprattutto il camminare cittadino, è stato anche un modo per ripercorrere quelle che sono le mie letture amate, in particolare Antonio Delfini, uno scrittore modenese poco conosciuto, un po' dimenticato negli ultimi anni, che è stato uno scrittore che anche alla mia città, ovvero a Roma, ha saputo dedicare delle pagine, dei brani di diari molto belli in cui emerge appunto questa capacità di saper interrogare i luoghi e di saperli raccontare. Grazie a tutti.